Ciao a tutti, sono Giulia Tanasio, regista e montatrice del film Macaria, un concorso in questa edizione del RIF nella sezione documentari italiani. Ciao, sono Stefania Bona e ho curato la fotografia del film. Ciao, sono Dario Ferrano e sono uno dei produttori e ho montato il film insieme a Giulia. Ciao, sono Deborah Patrizio. Ho avuto il piacere, diciamo, di fare una piccola parte danzata. Ciao a tutti, io sono Giorgio Cristina e ho composto le musiche originali. Ciao a tutti, sono Fabio Punzi, mi sono occupato della presa diretta del film. Ciao a tutti, sono Davide Balistreri e mi sono occupato della post-produzione audio. Ok, quest'anno non ci potremmo vedere fisicamente in sala e quindi abbiamo pensato di riunirci così per presentarci a voi e presentare un po' il film che state per vedere. Siamo veramente molto felici di presentarlo in anteprima italiana a RIF e di raccontare attraverso queste immagini un pezzettino della storia di Vincenza Magnolo, che è la musicista salentina, che è la protagonista di questo lavoro. Il film racconta di lei, racconta del suo approccio alla musica, racconta anche di questo pezzo del Sud Italia, delle sue tradizioni, dei suoi rituali e dei suoi canti tradizionali del mondo contadino. Proprio attraverso questi canti, i testi di questi canti, si racconta un pezzo importante di questa storia. Io ho incontrato Enza ormai tanti anni fa e questo tempo che è passato e quello che è cambiato in questo tempo e quello che l'incontro con lei ha lasciato e ha semilato nella mia vita, sono un altro pezzetto di questa storia che raccontiamo. Ci fa molto piacere condividere questo film con voi proprio al Rome Independent Film Festival, questo film quasi più che indipendente, forse addirittura artigianale. Ci abbiamo messo tanto tempo a farlo, tanto amore, tanta pazienza. E' un film che è stato in gestazione per appunto quasi dieci anni, come ha detto Giulia. E ci piace pensare che appunto come un artigianato, come il tavolo di un falegname, proprio porta su di sé i segni degli strumenti e del tempo che ci è voluto per farlo. Però sapevamo durante tutti questi anni che c'era qualche cosa che volevamo davvero condividere e quindi che non poteva rimanere in un cassetto e siamo davvero contenti finalmente di poterlo mostrare. e non vogliamo dire altro, credo. Quindi semplicemente buona visione. Grazie. Buona visione. Grazie, buona visione.